Buongiorno a tutti i telespettatori di classe MC e benvenuti all'interno dello spazio dedicato alle vostre domande per la prossima oretta e mezza se ne avete il 349-8275-983 come ogni giovedì abbiamo con noi Andrea Cartisano di Giotto Cellino, sì ma che vi dico subito sappiate che i sorrisi e i fasti di qualche settimana fa sono passati perché il nostro Cartisano è attapirato, è vero o no che sei attapirato Andrea? Beh mi hai dato un motivo in più tu, mi hai detto che mi tieni fino a mezzogiorno e mezza, no vabbè ma era un'ora e mezza diciamo un po' ma è un'ora e un quarto, intanto c'ho un groove da fare quindi meno male perché devo andare in stazione a prendere il treno per Napoli, ti avrei già maledetto che mi facevi pure perdere il treno. Ah giusto domani a Napoli è vero è vero ma devi spiegarci perché sei attapirato, sono tre giorni che lo sento al telefono, anzi in realtà si dà la titante e allora è tutto moscio molto, c'è un problema in realtà devo fare una precisazione, desidero ringraziarti davanti ai tanti telespettatori perché hai compreso la mia frustrazione e negli ultimi giorni non mi hai fatto lo stalking che mi fai di solito per confrontarci sul pezzo di MF perché hai capito la situazione drammatica che stavo vivendo. Allora cerchiamo di chiarire, io capisco che quello che faccio io non lo facciano tutti e meno male se no non camperei più di trading, però io ho sentito negli scorsi giorni tanti specialisti come li chiami tu che hai interpellato e dire no va tutto bene, a me il flusso dati arriva, ho capito, anche a me arriva già dal primo giorno, però ci sono tante dinamiche di mercato che le piattaforme di trading oggi sono in difficoltà. Aspetta, aspetta, però mettiamo il cappello su tutto quello che stiamo dicendo, stiamo parlando del cambio della piattaforma di Borsa Italiana Euronext che è passato dalla vecchia piattaforma a Optic. Questo ha creato molti problemi, che ne dicano effettivamente alcuni mi dicono no no nessun problema, no no attenzione i problemi ce ne sono e chi opera sul mercato veramente l'ha notato e sta facendo enorme fatica perché con questo cambio di piattaforma ci sono tante piccole tecnicality che magari un trader come ad esempio Andrea Cartisano sfrutta al massimo per la sua operatività che non funzionano più. Poi ovviamente le problematiche vanno da piattaforma a piattaforma, sai io ero abituato Io fino a ieri non avevo più il controvalore, oggi me l'hanno ridato, meno male perché se no me ne andavo anche io un po' male. Allora che ci siano dei problemi è abbastanza conclamato perché se pensi gli scambi di Borsa italiana sono fermi a venerdì, sul sito di Borsa italiana e senza annoiare i telespettatori che cos'è che lamentiamo noi trader professionisti che sfruttiamo come dici tu tutte queste tecnicalità che praticamente ci trovavamo fino a venerdì la piattaforma che ci indicava anche le sospensioni dinamiche, quelle più 3,5, meno 3,5, più 5, meno 5 e adesso invece abbiamo anche noi solo quelle di sospensione per eccesso di rialzo e di ribasso. Problemi e questo è veramente per uno come me che tra le warrant di mancanza di sicurezza quando un warrant viene negoziato, quando va in asta. Addirittura ieri un mio cliente mi ha chiamato e mi ha detto guarda io ho voluto provare apposta ha comprato, dico anche l'operazione dei warrant Osai, possono controllare i telespettatori, è stato in random più di 40 minuti con le bande che invece potevano permettere al warrant di aprire, considerate che lo standard era 5 minuti più il minuto random, poi alcune volte 3 minuti e il warrant apre, per esempio questo, poi abbiamo avuto dei problemi con gli alert, i minimi e i massimi che le variazioni io non le guardo neanche più perché tante volte sono sbagliate, c'è stato diciamo un problema proprio di incrocio di prezzi nelle aste iniziali per cui cosa succedeva? E anche stamattina è ancora successo che il teorico rimaneva lo stesso di quando uno faceva battere un prezzo come teorico, si cancellava, rimaneva lo stesso prezzo di teorico, per cui io spero che... Infatti noi la preapertura adesso aspettiamo un attimo ma anche noi non la facciamo più perché dopo do dei dati che io leggo ma non hai questa massima fiducia che avevi prima. Perché allora se i titoli incrociano non ci sono problemi, nei titoli più illiquidi e sai che io, scoppiamo lo scatto di Puccinella, ne faccio tantissimi, cosa succede? Che c'è un tentato in crocio magari alle 8.45, poi purtroppo uno dei due si cancella e rimane quel teorico delle 8.45 anche se il titolo non fasta e ovviamente si viaggia bene solo tra virgolette dall'apertura in poi perché quando i titoli poi scambiano ovviamente poi i dati sono quelli però diciamo che è stato molto più problematico del previsto almeno per me e infatti io non ho mai paura, domani per la prima volta avrò paura di fare brutta figura in un trading live perché mi sento un po' spaesato, comunque lavorerò lo stesso come ho sempre fatto. Verissimo, le SOS ora sono sballate, anche io con direct a volte non ci sono neanche poi se non ci sono sballate, ma è così per tutti, anche noi stiamo avendo problemi, adesso speriamo che 4 giorni, domani nella settimana, speriamo dalla settimana prossima che i tecnici, anche perché qua, ora io non lo so di chi è stata la colpa, di chi è la colpa di questa situazione qua perché chiaramente il cambio di piattaforma fatto in beta testing ti dice ok è tutto bene quando poi la metti on air succede sempre qualche bug o qualche cosa, però vanno risolti perché così… E poi ci dedichiamo ovviamente ai telespettatori, c'è anche un fattore che questo ha portato secondo me a una forte diminuzione degli scambi sul mercato perché ovviamente già eravamo in un momento dove stavamo scambiando meno dopo il profondo ribasso, adesso c'è un bel rimbalzo in atto sul mercato, però con volumi ridicoli nel senso che ovviamente chi non deve farlo di mestiere, soprattutto se ha la passione di fare un po' di intraday, gli vengono a mancare tanti dati che fino al giorno prima, fino a venerdì aveva e magari evita di operare e i volumi si sono ridotti di tantissimo e anche sul FIB stesso perché sta scambiando veramente molto poco, se vuoi partiamo col punto di giornata dell'analista, prego chiudiamo questa storia e speriamo bene che a breve si risolvi e ritorni tutto come era prima, anche se francamente dubito, però vabbè vediamo, speriamo bene, prego prego allora punto di giornata. Allora ci sono diversi aspetti da analizzare, facciamo ovviamente il Fuzzi Mib perché è molto importante, come ho detto chiaramente che mi aspettavo un ribasso del mercato che è puntualmente avvenuto, ma ho anche detto che se non andavamo sotto 24.900, che per quanto mi riguarda significa chiusura sotto 24.900, non ci sarebbe stata inversione, adesso considero la stessa stregua questo un rimbalzo molto importante, ma che diverrà secondo me in versione solo sopra 26.865 e dirò di più che se in versione deve essere, devono arrivare però un po' più di volumi perché il contratto di FIB ovviamente possiamo verificarli, siamo a 4.755 alle 11.18, che è veramente un'inezia. All'interno però di questa penuria di volumi ci sono delle situazioni molto interessanti, oggi tratteremo di due di cui abbiamo già parlato, voglio mettere nel punto di giornata perché interessano ovviamente a molti. La prima è S3D ovviamente, che in questo momento è inarrestabile Solid World, che è sospesa per eccesso di rialzo dalle 11.06 con 145 mila pezzi scambiati e qui ci sono a distinguere due cose. La prima è che probabilmente c'è qualcosa che noi non sappiamo perché ovviamente non è possibile un movimento su Solid World in queste proporzioni con questi volumi rispetto ai dati che ha pubblicato. E qui vengo ai dati. I dati senza fare tutto l'elenco, li ho memorizzati ma non credo di sbagliare, 100 mila Euro di utile, ancora 12 milioni di Euro di debito da 15 e capitalizzazione ormai superiore ai 75 milioni di Euro. Ovviamente sono prezzi da bolla perché il titolo quota 750 volte gli utili in questo momento. Quindi attenzione che magari se la comprerà qualcuno a prezzi folli, è già capitato, abbiamo visto Richmond con Ux e poi però svalutato per un miliardo e mezzo di Euro l'acquisto e io avevo già detto a suo tempo che avrei giustiziato in piazza l'amministratore delegato di Richmond, fosse stato un azionista di Richmond, però chi compra questi prezzi compra al momento una scommessa. Perché comunque i multipli sono talmente alti e io pensavo di vedere nei dati già un miglioramento, vedere qualche stampante 3D ma non il contratto da 6 milioni di Euro, magari già qualche cosa perché giustificasse. Invece è solo una scommessa su magari la società che cambierà il mondo, però adesso il rischio a questi prezzi è ovviamente piuttosto elevato. Secondo titolo GWS, qui mi sono andato a riprendere i dati perché non volevo commettere errori, anche se li sapevo più o meno a memoria, a parte i ricavi abbiamo un EBITDA in calo a 67 milioni da 106, un EBIT 29 milioni da 82, un utile netto 24 da 67 e un debito che è salito a 375 milioni da 107. Ora, se prendi un grafico, aspetta, il titolo capitalizza un miliardo di Euro, quindi vale più di 40 volte tutti. Se prendi un grafico il titolo è solo da comprare, nel senso che oggi magari arriva a rompere anche la media mobile a 200. Però cosa voglio dire in questo punto di preapertura? Che il mercato sta rimbalzando dai minimi, è una fase nuovamente favorevole, però titoli come Solid War e GWS sono titoli dove veramente bisogna affidarsi solo analisi tecnica, perché sui fondamentali oggettivamente non possono valere questi soldi. Un altro titolo, ne parli anche tu spesso, ne abbiamo discusso spesso assieme, Brunello Cucinelli, siamo arrivati a 73 volte gli utili, quindi attenzione che… È un altro campionato quello lì. Esatto, dove se tu hai i titoli è giusto che li tieni ancora perché segnali tecnici di inversione non ce ne sono, però chi volesse entrare adesso sappia che compra dei prezzi che sono un po' fuori dai parametri che la borsa adotta negli ultimi 50 anni. Ecco, perché magari tante volte non lo diciamo, facciamo un po' di analisi finanziaria proprio da bar, se oggi compro Brunello Cucinelli e rimane l'utile costante io ci metto 73 anni per rifagarmi l'investimento, quindi insomma diciamo che non è cosa da poco. Però bisogna essere per il breve moderatamente positivi, mi aspetto più volumi per dire che il peggio è passato perché io rimango sempre d'idea che non credo alla teorema Credit Suisse unica pecora nera d'Europa. Ecco, questo non ci credo. Ma neanche gli operatori, visto come arrivano le vendite sui finanziari appena salta fuori qualcosa, nonostante tutto l'intelligenza artificiale stamattina mi diceva che era meglio puntare sui financial europei che a me mi ha fatto saltare sulla sedia. Va bene, dai partiamo con le domande? Bene. E via. Buongiorno, vorrei un'analisi su Safilo, in carico a 1,42 Erg, in carico a 27,6. Safilo? Allora, Safilo devo dire che fondamentalmente ha fatto una falsa rottura al ribasso, lo so bene perché io ho preso lo stop, perché io sono sempre lì, io nello stop, e ho preso lo stop il 15 di marzo, la mitica operazione Taffazzi. Poi da lì il titolo è ripartito a spiego lo stop, c'era un gap aperto a 1,31,3, l'ha chiuso, anzi in assoluto alle 13 di marzo, il 15 ha rotto nettamente a ribasso e io da regola mi chiudo, però prendo queste trambate, però almeno sono ancora qui dopo oltre 20 anni. Adesso invece in una situazione molto più positiva, ma è arrivata sulla media mobile a 200, 1,41, quindi vicino ai prezzi di carico del telespettatore. Al momento terrei il titolo, però attenzione che se non dovesse superare questo livello di 1,41 potrebbe tornare prima a 1,35,8 e poi a 1,33,1, ma tutto sommato la situazione è abbastanza tranquilla e multi day vedo il titolo fino a 1,46,2 dove transita la media mobile a 100. Riguardo all'ingresso, se non è avvenuto oggi impossibile, è avvenuto diciamo probabilmente a inizio marzo, uno stop sarebbe stato da applicare, però è andato bene ad altri spettatori, però la posizione è stata gestita così correttamente. Erg invece mi interessa molto farla perché ci sono alcuni titoli, adesso mi viene in mente Erg, mi viene in mente ancora di più Alerion, che Alerion soprattutto sono un po' all'ultima chiamata. Allora Erg ormai è Fuzzimibba anche se è borderline come capitalizzazione per entrare e uscire, se c'è adesso per esempio ieri anche lì misteri del mercato, Buzzi non ha dato guidance sul 2023, penso per la Russia, anche se hanno detto che rimangono in Russia, loro il mercato inizialmente è un po' venduto, poi gli ha fatto fare un rally incredibile pari a quello che c'è stato l'altro giorno su Unicrate appena è uscita la notizia dell'approvazione della BCE del piano di buyback. Perché dico sono un po' all'ultima chiamata? Perché sono titoli rimasti molto indietro, Erg, Langue sui minimi di periodo, il minimo è stato a 25,56 e oggi sta provando invece a rompere la ribassista partita dal massimo dell'11 di novembre, per cui lo spazio per un recupero anche abbastanza significativo c'è, diciamo che un primo target potrebbe essere sulla media mobile a 100, 28,48 e poi sul massimo dell'8 di febbraio 28,94. L'unica nota negativa anche qui sono i volumi che sono davvero molto bassi. Allora, buongiorno Aymeric, Ay tra l'altro, effettivamente il mio nome teoricamente si dovrebbe scrivere così, sono stupito, da Simone Dabrescia. Vi seguo in differita da anni lavorando non ho tempo per la diretta ma vi registro, così la sera posso apprezzare qualche perla di educazione finanziaria. Grazie mille. Vi chiedo gentilmente che ne pensate di Mondo TV? Lì mi sfondo una porta aperta con me, arriviamo. Ero uscito di 3 quarti a 0,70, ora ho dentro un cipino da 3k con PMC a 0,47,60. Cosa mi consigliate? La mia riflessione è ora legata al patrimonio netto, mi porta ad un valore ipotetico di 0,11, cioè ottenuto dalla formula di 0,697 gap down circa, sta ad x come 89 milioni sta a 14 milioni. Oddio, qua la formula devo capirla un attimo, però continuiamo. Sembra la situazione già vissuta da aziende tipo Key Group e Illa che sono scese ad avere due zeri dopo la virgola, addirittura Saipem che dopo il raggruppamento ha infinocchiato migliaia di persone, termine tecnico. Ma la Consob in tutto questo, invitare Corrati a una tua intervista non avresti piacere. Oh come io lo invito, lo invito volentieri ma anche perché a me questa cosa qua della svalutazione cinese proprio io ce l'ho qua. Da 70 milioni per me è assurda che da un giorno all'altro ci si sveglia e dice oh scusate ci siamo sbagliati, 70 milioni di euro di rettifica, su tra l'altro 90 di patrimonio, quindi siamo arrivati adesso a un patrimonio di 17-18 milioni. Per me è una cosa fuori dal mondo ed è entrato nella mia personalissima blacklist come dice sempre il buon Cartisano. Mondo TV Cartisano, io per me basta, con questa cosa qua hanno chiuso. Devo dire che ogni tanto chiedono ai personaggi famosi, io non lo sono ancora, qual è la propria serie preferita in tv o il film preferito. Il mio è assolutamente attenti a quei due che considero un capolavoro immortale anche perché poi è girato nella mia amatissima costa azzurra e io adoravo Roger Moore che purtroppo ci ha lasciato pochi anni fa in Svizzera è morto anche se era ovviamente Sir Roger Moore e c'era in quel tempo anche il tenente Colombo che andava su rete 4 e il tenente Colombo diceva sempre l'assassino torna sempre sul luogo del delitto e mi dispiace dirlo ma il dottor Corradi è tornato sul luogo del delitto perché ha fatto la stessa identica cosa che era successa qualche anno fa. 2018 se non sbaglio. Sì mi pare 2018, io ne ero rivasto parzialmente vittima, poi mi ero accuso il primo giorno perdendo però parecchio e da lì non ho mai più fatto il titolo tranne sono sincero quando ha dichiarato che finiva il POC con Negma e allora ne ho un po' approfittato ma ho anche venduto male ma sono stato anche fortunato alla luce di quello che è accaduto. Anche lì le tempistiche sulla fine dei POC e l'annuncio della rettifica mi lasciano anche qua un po' perplesso. Sì diciamo che purtroppo dicono che tre indizi fanno una prova, qui ce ne sono già due, comunque il problema di base qual è? Che se guardiamo il titolo graficamente sotto il minimo dell'altro giorno che è 0,31 addirittura andrebbe chiuso e mai più guardato. La capitalizzazione attuale mi sembra che siamo scesi attorno a 18 milioni non è stracara se fa un milione di utile nel 2023 però io personalmente e mi dispiace ovviamente perché il dottor Corradi non è qui con noi e non può ovviamente rispondere. No ma noi siamo ben bene e volentieri, anzi adesso ci organizziamo ma ben volentieri. Io dico che purtroppo come hai ribadito tu è entrata nella mia personissima blacklist e io non farò mai più il titolo perché secondo me è giusto che il mercato non dia più fiducia a una situazione del genere. No anzi tu facendo così stai anche, non ti dico tu puoi farlo perché è legale, ha fatto la rettifica, è passato tutto, legale si può fare, ora poi su quello che è stato fatto per me non ci siamo, però ti aspetti che questo titolo qua abbassi. E ti dirò di più, c'è stato un caso peggiore di Mondo TV e parliamo di dieci anni fa, non so se te lo ricordi era quotata Agile Utelia, che poi si chiamava Utelia, fece tre sedute a rialzo pazzesche ma tipo da più dieci, più quindici, più dieci poi mai più state in negoziazione. A me non è neanche piaciuto il movimento a rialzo che ha fatto il giorno prima della svalutazione, perché col mercato debole i più attenti osservatori di Mondo TV che ce l'hanno in portafoglio, se lo ricorderanno, ha fatto più nove il titolo. Quindi veramente ci sono tutta una serie di situazioni e io se fossi stato in posizione e dico sempre se non si chiamasse Mondo TV avrei dovuto probabilmente tenere il titolo perché era ancora ben impostato, non aveva ancora dato alcun segnale di ribasso, io subivo un meno 50% da un giorno all'altro, quindi a un certo punto è giusto che il mercato abbia dei forti dubbi sulla società perché è già la seconda volta che capita questa svalutazione casualmente sempre sul mercato asiatico, perché anche l'altra era stata sul mercato asiatico e anche gli internal dealing. Ma poi da 70 milioni, ma scusi cos'è? Te ne accorgi da un giorno all'altro che c'è una rettiva da 70 milioni? Qua anche Lega, l'Advisor, cioè... Poi c'erano anche dei problemi personalmente risolti a dichiarazione del dottor Corradi, secondo dichiarazione del dottor Corradi, sugli incassi, se ti ricordi, perché avevano problemi anche a incassare. A incassare. C'erano 6 milioni che ballavano mi pare sugli incassi. Sì, per carità. Però quello che intendo dire è che è normale che il mercato diffidi di questa società perché è già per la seconda volta accaduto e come dici tu 70 milioni di svalutazione ci stanno per una società che, non so, ha un miliardo di patrimonio, ma non per una che aveva 88 milioni, se ricordo bene. Sì, 90, una cosa del genere, sì. No, questa cosa qua è assurda. MonoTV ha svalutato un asset, mi pare fosse ok, di diversi clienti cinesi che non ritiene più prodotti. Sì, sì, è questo qua. Lo sappiamo. Però è una cosa fuori dal mondo. Per me, guarda, non mi ricordavo quella del 2018, me l'ha ricordato un telespettatore molto fedele. Io me la ricordo perché avevo l'ufficio in centro, tanto è miliardario il proprietario, c'è la catena 051, io andavo sempre a mangiare l'hamburger in pausa pranzo, risalgo, titolo sospeso a ribasso. Ho detto, se mi è costato sto pranzo e praticamente era la svalutazione. Va bene, non va bene, però sappiate che su quello lì fate quello che volete, ma per noi dopo si è giocato la fiducia, quindi basta. Va bene, allora, buongiorno Emico, Buzzi a 20,60, edilizia acrobatica in parità, vorrei avere analisi con supporto di resistenza e take profit. Grazie e complimenti per la trasmissione. Laura da Milano, Buzzi, ne stavi giusto parlando poc'anzi, vai. Allora, su Buzzi la telespettiatrice è stata molto fortunata, secondo me, perché, no, l'ho detto prima, perché non ha dato guidance per il 2023 e il mercato l'ha fatta volare, comunque lei aveva un buon prezzo di carico, quindi va bene così. L'unica cosa che non tanto per quello che è accaduto ieri, perché ti ho detto ora andò a fare 23,40 di massimo, direi stop profit sotto il minimo di oggi alla fine, va bene. 22,39 perché è anche il massimo del 21 di marzo, per cui a quel punto esce in guadagno, comunque vada quasi di un 10%, adesso il titolo lo può ancora mantenere, target a rialzo può arrivare non oltre 24,29 che è il massimo della seconda metà di maggio del 2021. Edilizia acrobatica, allora c'è da dire che i titoli che sono diventati grandi grazie al bonus 110%, tutto sommato si stanno difendendo abbastanza bene, soprattutto edilizia acrobatica, sugar meno dal punto di vista tecnico, però i dati che ha pubblicato sono stati a mio avviso buoni, anche se non darà dividendo, per cui edilizia è giusto che ce l'abbia nel portafoglio, però attenzione perché la situazione odierna al momento è di shooting star, quindi nuovo massimo di periodo, di breve periodo a 18,84, potremmo dire quasi di medio, perché in realtà è un livello che non vedeva, forse è di lungo, perché dal 2021 non lo vedevo, però mi raccomando sotto 18,48 esagerando 17,92 uscire, non ho ancora ben capito perché non riesco a star dietro a tutto, magari se tu lo sai, illumini anche me, se abbiamo risolto finalmente, perché ho visto che i crediti fiscali, lunedì mi pare sia uscito che unicredit e poste tornano a negoziarli e questo è già un bene, però diciamo che non ho ancora capito bene il decreto, se è a posto, se è stato approvato, perché ovviamente edilizia, scusami, sugar e gibus devono tanto della loro salita in borsa al bons 110%, per cui secondo me non potrà ovviamente più essere come prima, però edilizia ha dei conti in ordine, solo la questione tecnica, sottolineerei che è una shooting star sui massimi, per cui uno stop profit o anche stop loss di poco, visto che ha detto che ce l'aveva su questi prezzi di carico, io lo metterei perché in caso di ribasso il titolo fino a 16,5 potrebbe anche tornare. Bentornati, 349, 8275, 983, era, prezzo di entrata, era? Allora, oggi in realtà starebbe rompendo a rialzo, tu che sei il re delle trendline sta rompendo la ribassista partita dal massimo dell'8 di febbraio, oltretutto è su una resistenza data dalla media mobile a 100, 2,605, ha già superato nelle scorse sedute la media mobile a 200 e quella a 50, quindi in questo caso io vedo oggi un segnale di ingresso su ERA, perché comunque le utilities hanno un'impostazione di fondo migliore delle banche nel breve periodo, target price 2,76 massimo dell'8 di febbraio e poi abbiamo il massimo di periodo che è stato il 12 e 13 di gennaio a 2,807, in questo caso è una delle poche situazioni dove bisognerebbe intervenire sulla forza perché il titolo sembra voler partire, l'unica cosa, attenzione, anche qui mancano i volumi, per cui bisogna sempre considerare che sono davvero molto molto bassi ed è un problema generalizzato, comunque è oggi in caso di rottura di 2,55, questo è già un segnale importante perché rompe la trendline ribassista. Ciao e complimenti, Unicredit, post buyback, punto di domanda, Fabio da Faloppio, Allora Unicredit? Beh allora io sinceramente quando è uscita la notizia l'altro giorno e credo che fosse martedì, direi, c'è stato lo spike enorme, ma non è stato neanche tanto uno spike perché io l'ho vista, no è stata proprio una partenza, te lo faccio vedere graficamente, l'algoritmo l'algoritmo si è attivato, no non è lo spike, perché lo spike, spieghiamolo in te, lo spike è un'accelerazione che dura poco, lì invece è stata una salita lenta ma costante per modo di dire, lenta ma costante, ma scusa queste due candele iniziali non sono due spike, poi va bene, tutto quello che vuoi, vabbè dai, vabbè, sono minuzie, minuzie, è partito. Lo spike non è quello, adesso brevetterò lo spike dopo questo, allora praticamente cosa è successo, è uscita la notizia, 3 miliardi e 3, 3 miliardi e 4 di buyback ha autorizzato la BCE, il titolo è partito e è andato fino mi pare attorno a 16, no aspetta, 17 e 30 sì, grosso modo, e poi è tornato un po' indietro però poi comunque in quella stessa seduta ha chiuso a 17,15. Allora per il breve il titolo è impostato ancora a salire, diamo dei target, media mobile a 50, 17,72, massimo del 22 di marzo è poco sopra 17,74,2 e poi abbiamo massimo del 15 di marzo 12,128, però attenzione che anche qui i volumi veri ci sono stati soprattutto in discesa e nonostante scambi ancora parecchio unicredit rispetto a tanti altri titoli in salita ce ne sono meno, però credo che possa ancora portarsi verso diciamo livelli più alti degli attuali, però manterrei la posizione senza entrare a meno che non sono capaci di stopparmi stretto e direi già sotto il minimo di ieri, 17,064. Va bene, perché Unipol vale poco? Vale poco? Eh sì, ha ragione il telespettatore, numeri alla mano vale pochissimo, credo che siamo a 4,5 di price earning. Allora logicamente l'obiezione del telespettatore è vera, io sono convinto e lo dico da settimane… 5 di pie. Sì sì sì, ma più o meno i bilanci li leggo ancora tutti e mi ricordo ancora abbastanza bene. Qual è il problema di Unipol? Sì, vista l'età te lo volevo ricordare. Embe, che secondo me il mercato sa benissimo che i bilanci bancari vanno presi un po' con le molle in questo senso, che sono assolutamente legali, rispettano tutte le normative vigenti, però c'è ampia libertà quando vengono redatti. Per cui quando… Diciamo che sono gli NPL che uno diciamo che li valorizza… Io ho fatto l'esempio di Unicredit. Unicredit ha prestato nel 2022 400 miliardi, ha dichiarato NPL al 2,5%, quindi 10 miliardi. Se gli NPL fossero al 5, ed è un dato ragionevole, sarebbero 10 miliardi in più di perdita. Quindi capite bene che è un attimo passare da utili clamorosi a perdite clamorose. Mi dispiace che sono uno dei pochi che lo dice, perché sento tutti dire alle banche italiane, non c'è problema di tutto, però il problema NPL esiste. Poi c'è il problema anche delle obbligazioni subordinate. L'altro giorno la nostra BIM, che è Dago, ha fatto la classifica, intesa ne ha emesse per quasi 10 miliardi di Euro. Ovviamente non è che da domani tutte le obbligazioni subordinate tier 1 sono un pericolo, però visto quello che ha fatto Deutsche Bank e quello che ha fatto Unicredit, il mercato è molto sensibile su questo argomento, dopo quello che è successo con Credit Suisse che le ha zerate per 16 miliardi. Detto questo, il titolo può continuare come Unicredit a salire. Il primo target è 4,84,8 e poi 4,95 massimo del 13 di marzo. Ovviamente sono d'accordo sul fatto che sia uno dei titoli finanziari più sottovalutati, però il mercato deve sempre fare i conti, anche il portafoglio BTP, ne parliamo spesso, adesso la BCE è una uscita con l'indiscrezione, però non se ne parla mi sembra già più. È un altro fattore che metterebbe a rischio i bilanci delle banche, perché se fossero costretti a dichiarare market, il loro portafoglio... Eh sì, quello è un po' pericoloso. E non so neanche se è giusto, perché io riesco a capire il razio di una norma simile, però non lo so, questo è veramente un bel... tu cosa faresti? Gli fai fare i mark to mark? No, no, io anche se il telespettatore, se ti ricordi, non mi ricordo se il giovedì scorso due giovedì fa mi aveva un po' sbertucciato perché mi ha detto che in realtà l'Italia è andata in default 150 anni fa. Io dico sempre che anche se sono convinto che i bilanci bancari dovrebbero essere più trasparenti, non mi sembra giusto perché se ho titoli di Stato italiani, francesi, spagnoli, tedeschi che non hanno mai fatto default, ovviamente è giusto che li metta a valore di carico se mi verranno, come sempre è stato, rimborsati al mio valore di carico, perché la maggior parte sono poi comprati sul primario, ovviamente. Va bene, Tenaris, eventuale ingresso, grazie Franco, Tenaris. Tenaris comincia a essere molto interessante, a me piacciono più questi grafici qui, perché almeno so che io comprando a questi prezzi mi do uno stop sotto 12,60 per avere un target almeno fino alla media mobile a 200 che è 14,67 e poi fino al massimo del 13 di marzo che è 15,23. Quando un titolo come Tenaris mi passa da massimo del 16 di febbraio 17,88 a un minimo il 24 di marzo 12,60 devo iniziare a monitorarlo. Non è ancora scattato un chiaro segnale di ripartenza, ma già una chiusura sopra area 13,40 potrebbe essere questo primo segnale. Quindi bene per chi ha il titolo, per chi lo può a questo punto ovviamente tenere, anche se io per esempio l'avevo, l'ho stoppato in perita quando aveva perso la media mobile a 200 il 13 di marzo. Chi vuole entrare lo deve fare, lo può fare, solo se è capace a stopparsi sotto 12,60. Salve, potrei avere un prezzo d'ingresso per Banca Mediolanum? Banca Mediolanum? Occhio è perché è uscita una dichiarazione da Van der Leyen e adesso la mettiamo. Posizione Cina su guerra determinante per le nostre future relazioni. Mo' ci giochiamo pure la Cina, Cartisano. Eh beh. Siamo a posto. Allora, Banca Mediolanum, se vuole provare un ingresso il telespettatore può andare bene anche acquistare agli attuali prezzi, nonostante gli scambi siano a lumicino, perché si sta impostando per tornare almeno a 8,52, 8,54,8, poi media mobile a 50, 8,78,6 e 8,98. Però sono operazioni non di buy and hold, cioè sono operazioni di trading, cioè ha un senso comprare oggi a rotondo a 8,30 se sono disposto a stopparmi sotto 7,896. Diversamente, se vuole comprare per un'ottica di qualche settimana, qualche mese, lo stop deve essere molto più largo, almeno 7,54, se non media mobile a 200 che è poco sotto, 7,51 e mezzo. Però non credo che il titolo vada oltre 9,40 nelle prossime settimane, perché significherebbe, poi magari il mercato lo fa, che il mercato va sopra i massimi che ha toccato nella prima decada di marzo. Io quello non lo credo. Per cui sono occasioni di acquisto, sì, ma per un'operatività da trading. Quello è quello che penso io. Questo è quello che penso io. Va bene, andiamo avanti. Cartisano, troppo matematico, soffre il mercato rialzista. Cartisano è mercantopatico, si dice? Tipo in base a come va il mercato. No, ma no, allora il mercato rialzista sarebbe il più bello del mondo, perché? Perché ti perdona gli errori, perché tu ogni volta che compri, anche se non sei, diciamo, come dire, troppo rigoroso negli stop, il mercato ti grazia. Il mercato più clamoroso in questo senso è stato il mercato 2003-2007. Il mercato 2003-2007 c'erano dei ragazzi di Millennium Sim in Saletta Genova, al Civico 12, che quando i titoli scendevano, sto per bestemmiare, ma era vero, mediavano, mediavano, mediavano. Il titolo scendeva massimo tre giorni e poi ripartiva e faceva nuovi massimi. Il mercato come quello è il sogno di ognuno, però logicamente se tu hai comprato sui massimi le banche, parlavamo prima di Unicredit, ci sono alcuni che hanno comprato anche a 19. E' vero che ha già rimbalzato, ma ti sei visto il titolo in poche sedute a 15. Questo è il pericolo dell'attuale mercato, che in poco tempo, anche a causa di volumi così bassi, la situazione può cambiare veramente nel giro di pochissime sedute, se non di poche ore. Buongiorno, è possibile fare un'analisi di Beghelli? Grazie, siete il vostro, grazie il vostro programma competente, io in carico a 027. Paolo dalla Calabria, che salutiamo. Allora, Beghelli, l'ho vista muoversi negli ultimi giorni. Però anche qui è veramente inspiegabile, perché titolo il 23 di marzo, che praticamente fa più 9 con volumi elevatissimi. Il giorno dopo, candela inside, il lunedì, gap down, con dati però di bilancio nel frattempo usciti molto negativi. Quindi, che cos'è che non mi spiego? Non tanto il gap down di lunedì, purtroppo, ma il più 9 di giovedì. Ma quello, lo sto notando io invece, te la do io una spiegazione, perché lo sto notando quest'anno poi particolarmente rispetto agli anni scorsi. Allora, qua ci devono essere squadretti di trader che prendono l'agenda della pubblicazione dei dati e tutte le società piccoline, quelle un po' meno liquide, così, che magari devono rilasciare i dati dopo due giorni, le fanno partire, le fanno partire con volumi impressionanti. Poi, a prescindere da come escano i dati, non gli interessa niente. Almeno, questa è la, secondo me, io l'ho vista così, poi dimmi se può essere credibile o meno. Questi le comprano, fanno partire il titolo, vedete, questo qua è in particolare la candela di cui parlava il buon Cartisano, 9,21% di rialzo, cercano di mantenere il titolo, farlo stare nella parte alta, quando arrivano gli altri, scaricano tutto. E poi, chi se ne frega da come esce il dato. E lo sto notando, l'ho notato su Beghelli, è successo su una marea di titoli piccolini, nelle ultime due settimane, proprio lo vedi che partono due o tre giorni prima del rilascio degli utili e poi, o crollano, di solito crollano, a prescindere, pure se i dati sono buoni. E basta. Può essere la cosa, ci sta? Può essere una lettura corretta. Guarda il sorriso storgnone di Cartisano, che ha l'occhio lungo Cartisano. No, perché io non sono così bravo e spudorato, perché io ammiro chi riesce a farlo, perché io devo prima vedere i dati, devo capire, però sì, è successo anche di recente, e poi il bilancio è stato buono, direi Aton. Aton, Green Storage l'ha fatto, ma ne ha fatti talmente tante… Aton ha rotto il rialzo lunedì e poi i dati sono usciti, credo, o martedì a borsa chiusa, si direi martedì a borsa chiusa, per cui ieri c'è stata anche la Sello News. Vimi ha fatto un'altra roba del genere, Vimi Fastness, poi chi altro? Ce n'è stata una proprio lampante qualche settimana fa. Quindi fate attenzione quando vedete questi titoli partire senza notizie, in assenza di notizie, andatevi a vedere l'agenda della pubblicazione perché vedrete che vi rientra in questo quadro. Perciò fate molta attenzione a quello che vi voglio dire, non fatemi inugliare. E il buon Livio dice, meno male che siamo alla fine della stagione trimestrale perché lavorare sulle trimestrali non mi piace e ha ragione perché è molto più difficile il mercato. Dunque rispondiamo al telespettatore, ovviamente è situazione non facilissima perché i dati erano oggettivamente brutti, il livello che non deve perdere il titolo è ovviamente 0,26 che è il minimo di lunedì appunto, giornate in cui sono arrivati al mercato i dati nel senso che sono usciti venerdì a borsa chiusa, a mia memoria lunedì si sono tradotti purtroppo in un meno 9, praticamente in tradenza anche più sotto, quindi stop loss 0,26, poi se si mette in laterale fino a chiudere il gap a 29,5 il titolo può arrivare, però sotto 0,26 si deve chiudere anche in perdita. Va bene, Emeric, mitico addirittura, vorrei chiedere due punti di ingresso su Fineco e Azimut, grazie Alessandro da Castellarano, il MAC di Azimut è in zona d'acquisto, opera col MACD. Va bene, allora cominciamo però con Fineco, io vado in ordine, ma se vuoi Azimut ti do Azimut, decidi tu. No, no, va bene Fineco, però sono sconvolto che ha detto mitico, si vede che non ti conosce bene. E' come quando a te dicono che sei simpatico, è perché non ti conosce bene, vai Fineco! Allora, in realtà Fineco oggi sta dando un bel segnale, anche qui purtroppo volumi molto bassi, però perché è molto semplice, qua parliamo proprio di abcina l'analisi tecnica, 14 marzo 14,14, 15 marzo 14,095, 21 marzo 14,11, 22 marzo 14,20 e mezzo, 23 marzo 14,20, 27 marzo 14,16 e 15, oggi rompe, bel segnale, con Target almeno in area 15 e poi a chiudere il gap lasciato aperto a 15,5. L'unica incognita rimangono sempre i volumi, se compriamo il breakout però stop non oltre, non oltre 13,28, meglio 13,87 perché lo stop andrebbe messo stretto perché significherebbe per Fineco tornare sotto la media mobile a 200. Diceva dell'MACD di Azimut, giusto? Vai che devo chiudere, Azimut. Sì, si sta girando, quello di Fineco era leggermente meglio, titolo che può ripartire, stop qui lo metterei un po' più largo sotto 18,35, 20,15 primo target, poi direi 20,89, 21,19 media mobile a 100, comunque sono d'accordo col telespettatore. Ciao a tutti, spero oggi leggerai questo messaggio, è possibile un'analisi di Unieuro e Paypal, Paypal me lo tengo per dopo perché abbiamo ripreso a fare Trading Nation 14,20 mercato americano, invece Unieuro lo faccio fare volentieri al buon Cartisano, Unieuro Cartisano. Unieuro purtroppo ne parliamo spesso e ne parliamo ovviamente in toni non entusiastici perché è un argomento già trattato più volte e il titolo è diciamo finito, tra virgolette, in un certo mood per il mercato dopo il famoso stacco dividendo straordinario della seconda metà di giugno 2021. Il titolo lì era arrivato a valere quasi, anzi più di 30 Euro per azione e oggi ci troviamo sotto gli 11 Euro. Questo l'abbiamo già spiegato tante volte, il problema di Unieuro è che fatturerà più di 2 miliardi ma la marginalità è sotto i 20 milioni e quindi il mercato ha un po' diciamo molto più in grande gli stessi dubbi che ha su una farma E che continua a fare fatturati eclatanti ma poi non c'è mai marginalità. Adesso però tecnicamente si sta facendo interessante perché il titolo ha fatto un falso breakout purtroppo il 23 di marzo, però tutto sommato ha fatto un minimo importante il 20 di marzo a 10.1 e adesso sta provando a ripartire con un primo target sulla media mobile a 50, 11.07, poi abbiamo quasi allineate le medie mobili a 100 e a 200, poco sopra 11.75. Però attenzione che secondo me i fasti di un tempo se non ritornerà una seria marginalità sono quasi impossibili. Ecco anche nel medio periodo il titolo è molto difficile che possa andare sopra i massimi del 5 di dicembre che sono stati a 13.69. Va bene, allora andiamo avanti. Andrea non valuta bene il potenziale del business di S3D, non capisco perché continua a mettere in evidenza i conti che al momento contano zero. Un'analisi supposta è in carico a 9, grazie Salvatore da Vicenza. No ma sta dicendo la stessa cosa, anche Cartisano che sostiene qua, al momento i multipli sono gonfiatissimi, le potenzialità sono stratosferiche perché se questi faranno quello che immaginano di fare adesso, cioè la riproduzione degli organi in stampa 3D, fischia salvano il mondo, questi diventano i numeri uno dappertutto. Però bisogna anche stare alla realtà dei fatti, adesso devono vendere le loro stampanti 3D, che tra l'altro la linea produttiva che hanno gli consente di farne non tantissime l'anno e quindi avranno dei conti chiaramente. Però non è che noi neanche possiamo giocarci tutto sulle aspettative future, bisogna anche guardare i numeri, per quello che... Cartisano vuoi aggiungere qualcosa? No, no ma io capisco il telespettatore, però abbiamo visto Nio, abbiamo visto Nicola, abbiamo visto e qua... Bion... Sì, sì, no, è un altro mondo, un altro discorso perché le cose che fa Solid World sono tangibili. Quando Bion ha tirato fuori quel prodotto che riusciva in 20 giorni a riassorbire gli sversamenti delle petroliere, anche lì cambiava il mondo perché il mondo della riassicurazione non avrebbe più avuto senso per le petroliere, per cui non ci sarebbero stati più i disastri ai quali abbiamo assistito. Per cui io rispetto il telespettatore, però oggi stiamo comprando a 75 milioni di euro una società che fa 100 mila euro di utile. Poi mi pare che le linee produttive facciano una, ce lo confermerà, una stima di 50 di queste stampanti l'anno e alla fine sono 500 mila euro a stampante, sono 25 milioni di euro di fatturato. Quant'è la marginalità su quelle stampanti? Al momento è una scommessa, magari sarà la scommessa più bella di tutti i tempi, però dobbiamo in questo programma soprattutto avvertire che stai comprando un sogno in questo momento e non solide, in realtà come direbbe un noto obbligiarista. Prima i software, poi i cambi di ticca, adesso queste cose domani chissà, ci faranno fuori tutti caro Andrea, Giancarlo da Crescentino e lui ha detto un'enorme verità perché in tanti stanno iniziando, tanti operatori veri, stanno iniziando a pensare che dici oh ma fatemi capire, ce l'avete con noi piccoli trader retail? Volete spazzarci via dal mercato a fare questo? Sai che cos'è che io farei? Però iniziano a pensarci. Non lo permetterebbero mai, io farei un comitato di trader o ex trader che vengono ascoltati da Borsa Italiana per cercare di far ritornare il mercato più vicino a quello che era dieci anni fa, perché loro non capiscono che anche solo i tic, che io ricordo sempre Saeco, Saeco era un titolo che facevamo tantissimo, poi è stato pata. Il tic era 3, 301, 302, 303, 304, tradotto 0,33% tra un prezzo e l'altro, tra una variazione minima e l'altra, noi pagavamo in Millennium Sim lo 0,05, quindi pagavamo lo 0,10 e guadagnavamo a un tic. Sai quanti eseguiti in più c'erano? Per esempio. Quindi Borsa Italia, secondo me, è andata nella direzione sbagliata, perché i volumi sono anche calati per questo motivo qui, perché i trader una volta facevano scalping. Ricordi l'attacco che hai subito qualche mese fa e anch'io sono stato citato, non solo, anche altri colleghi. Lo scalping di una volta, perché oggi non è più possibile? Principalmente perché i tic sono diversi e la liquidità è diversa e gli algoritmi. Io quando l'ho detto però mi hanno sberto su internet, mi hanno scintormato alla grande, cosa stai dicendo? Però è così, sui titoli italiani, però ascoltate quello che dico, sui titoli italiani nella maggior parte dei giorni, poi ci sono ogni tanto degli piccoli spazi che si aprono, però altrimenti nella maggior parte dei giorni scalping non si può più fare, ci sono le macchinette, la questione dei tic, perché è così, cioè se uno mi contesta questo, vuol dire che non sai cosa vuol dire fare scalping o pure non operi al mercato. Poi se fai scalping sul bitcoin, sulle cose, questo è un altro discorso, però vabbè. La più grande società italiana di scalping era di Milano, la cito, tanto sono passati ormai tanti anni, la conoscono in pochi, si chiama Safe Trading, ci lavorava un mio amico, loro facevano denaro lettera sui titoli quando il mercato è onelaterale, oggi questo non è più possibile, bisogna dirlo purtroppo. Eh no, bisogna dire, ci sono le macchinette, ma non è perché sono io che sono antipatico ve lo dico, perché ci sono le macchinette che vanno davanti a te e quindi non puoi più fare denaro lettera o fare comunque piccoli trade sui primi livelli di scambi, perché ci sono le macchinette. Poi qua mi scrivono pure Tobin Tax, sì, considerato però che sull'intra la Tobin Tax non si applica per lo scalping, non si applica, però è un altro discorso. Però andiamo avanti perché facciamo poche cose. Buongiorno e buona giornata, un'analisi dei titoli Reply e Volkswagen, grazie e buon viaggio per Napoli. Reply. Reply, alziamo le mani, oggi è successo, visto che vado a Napoli, spero che i napoletani non si offendano alla mia pronuncia pessima, è successo o miracolo, perché questa mattina ci siamo alzati e Berenberg ha detto di improvviso che Reply è bella, scoprono che prima non l'ha nessuno BIP e adesso invece è bellissima. Target price 144 e il mercato l'ha presa benissimo. Allora, il titolo stava già accumulando sotto area 110, però è evidente il gap up lasciato aperto a 112.2, tra l'altro qui i volumi ci sono, ecco perché su queste notizie price sensitive quando il mercato la prende bene i volumi escono. Target price massimo del 14 di marzo che è 118.5 e poi abbiamo un target fino a 123.9, considerato che a 124.5 c'è un gap da chiudere sul minimo del 9 febbraio. Volkswagen la prendo qui perché siamo già in terribile ritardo, perché oggi stiamo facendo un po' troppo salotto. Allora, devo dire che fortunatamente il 24 di marzo è rimbalzato con un bell hammer dai minimi di breve periodo, adesso lo spazio di risalita è almeno fino a poco sotto area 130 e poi a ritestare la media mobile a 200 attorno a 133.5, per cui Volkswagen mi sembra in ripartenza. Emeric sono disperato con Diasorin in carico a 122. Allora, io Diasorin l'ho comprata, so che ho rischiato molto perché dopo che è uscito il bilancio è stata sommersa da downgrade, ciò nonostante il titolo ha tutto sommato ottenuto. Ovviamente io ho un prezzo di carico molto inferiore al telespettatore, per cui sono in una situazione un po' più ovviamente agevole. Che cosa ho analizzato io? Che la società tutto sommato ha perso il 10% di utile, ha ridotto il debito di 100 milioni, ha aumentato il cash flow, nonostante i ricavi da Covid, è brutto dirlo ma è un dato di fatto, siano scesi del 40% rispetto al 2021. Quindi tutto sommato, se non effettua una chiusura giornaliera sotto 94,28 che è il minimo dell'altro giorno, il titolo può provare ad accumulare, tornare fino a chiusura gap che è 105,2, poi media mobile a 50,113,2 e direi target finale potrebbe essere 116,75 di questo movimento. Lui ha un prezzo di carico un po' troppo alto e non per chi l'avevo fatto io era giusto farlo, ma sarebbe stato un bene anche per lui, io ero entrato a prezzi alti su Diasorin, ma il 30 di gennaio mi ero chiuso in perdita, quando mi aveva perso la congestione. Quindi l'importante è che se entro a 122, per dare un dia, magari ti guardo qui nello schermo, metti la candela, allargalo un po', il 24 di febbraio ti devi chiudere sulla candela del 24 di febbraio, guarda se la trovi, 24 di febbraio. Scusami Andrea, mi stava parlando la regia, dimmi. 24 di febbraio, la candela del 24 di febbraio. Sì, allora, 24 di febbraio, mi potete staccare ragazzi per favore, grazie. Eccola qua, questa è quella del 24. Ecco, su quella candela lì io mi chiudo, ok? Perché il titolo mi va sotto la mini congestione che stava, e mi stoppo a 113.3, cosa mi evito tutta la discesa fino a 94.28, però per adesso ottenere, io però sappia che sotto 94.28 stoppo anche ovviamente in perdita. Va bene, allora andiamo avanti. Buongiorno, una delle ultime, siamo a WeBuild, WeBuild in carico a 1.47, tengo ancora, supererai 2.10, sto poi accumulando STM, quali target di breve. Ok, WeBuild. Tenere, ma con stop profit sotto 1.95, però il titolo è ancora fortissimo e il target per me era area 2.15, per il breakout che sta provando a fare potrebbe arrivare fino ai massimi della seconda settimana di novembre 2021 2.282. STM accumulare a questi prezzi? Sinceramente no, no, accumulare, perché è vero che ha rotto a rialzo il rompibile, ha però lasciato un gap aperto a 47.345, non accumulo STM a questi prezzi, anche se sta dando un segnale importantissimo. Il target di breve, però l'ho già detto in altri giovedì, parliamo di maggio 2001, quindi la valenza dell'analisi tecnica a un periodo così lontano, secondo me viene un po' meno, 48.8, massimo su time frame mensile. Oggi comunque ha fatto già 48.32. Io per dare un'idea al telespettatore addirittura terrei la posizione e applicherei uno stop profit sotto la chiusura gap, 47.34. Se vuole accumulare deve partire da sotto 44, diciamo, dare a 44 in giù, ma non adesso che è tiratissimo il titolo, per un accumulo. Questo è quello che penso io. Mi spiegate la porcata che ha fatto Leoni sul DAX? Oddio, può essere un po' più specifico perché non ho mica capito la domanda. Si può fare una domanda sulla sterlina e non sulle azioni, ovvero possiamo attenderci un crollo di questa sterlina o no? No, facciamola assolutamente anche perché non ho fatto il forex oggi, quindi un po' di sterlina dollaro, presumo, io prendo la sterlina dollaro. 1.23.43, ovvero possiamo attenderci un crollo di questa sterlina o no? Ma io non mi aspetto un crollo, anzi perché secondo me la Bank of England ancora qualcosina deve fare in termini di rialzo tassi, quindi non lo so. E comunque c'è un bel livello su 1.24, siamo 1.23.46 che se lo rompe vola la sterlina. Non lo so, la vedo più rialzista la sterlina che non ha ribasso. Che dici su sterlina dollaro stiamo parlando? Allora, io purtroppo nel software qui, e non possiamo perdere ulteriormente, ho dollaro sterlina e non sterlina dollaro e devo dire che la penso come te perché sinceramente per esempio in questo caso adesso dollaro sterlina è 0.81, sta per andare su supporti importantissimi e potrebbe anche romperli a ribasso. Quindi c'è sicuramente debolezza su dollaro in questo momento. Però purtroppo io non tradando Forex, sono sincero, quando non trado non prendete con lo stesso interesse le mie analisi perché lo guardo, però per me se non ci metti i soldi veri parliamo un po' di aria a fretta. Questa è la mia filosofia. Caro Andrea Cartisano, come sempre un piacere averti in collegamento. Spero di ritrovarti settimana prossima un po' più che ti hanno risolto i problemi. Speriamo, anche perché e faccio gli scongiuri, uno dei proverbi più famosi è vedi Napoli e poi muori. E detto da te che sei un ipocondriaco, non posso immaginare. Ciao Andrea, grazie mille!